Buona giornata a tutti, siamo qua in diretta, guarda la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo abbiate un attimo di pazienza che ci mettiamo un attimino a posto con tutto quello che non va bene stiamo andando in fischio e beh, basta ancora tanto a questo punto e beh, dopo tiro su cuffie questa è la trasmissione che ogni giovedì, come ogni giovedì che va in onda di Magia Stragonaria Paganesimo e oggi continuiamo il discorso sul crogiolo del male e parleremo della contemplazione io vorrei fare un piccolo, sono qui con Francesco allora, vorrei fare un piccolo discorso prima che, dimmi Francesco no, no, io vorrei fare un piccolo discorso prima di cominciare il crogiolo del male Francesco, perché i nostri radioascoltatori sicuramente non si ricordano più perché noi trattiamo gli elementi del crogiolo del male del crogiolo dello stregone proviamo a ricapitolare un attimino io l'anno scorso ho fatto una serie di trasmissioni sul crogiolo dello stregone ciao Franco ma con me abbiamo fatto la tradizione del crogiolo dello stregone in cui indicavamo gli elementi che servivano per forgiare un percorso di stregonaria ricordiamo sempre che il percorso di stregonaria è la trasformazione di se stessi e il crogiolo dello stregone serviva per sottrarsi dall'orrore in cui il cristianesimo le religioni rivelate riducono l'essere umano perché questo? perché il percorso di ridurre in ginocchio o un percorso di libertà sono comunque due processi di costruzione cioè non è che il cristianesimo è una cosa normale, naturale mentre in ginocchio i bambini è una cosa normale sono sempre dei processi di costruzione col crogiolo dello stregone noi elencavamo gli elementi che servivano per uscire da questa condizione insieme a quello, se vi ricordate, trattavo le immagini della Deuotio le immagini della Deuotio che serviva per dare le immagini del divino che ci circondano finito il crogiolo dello stregone ho parlato di alcuni paganesimi, piccoli paganesimi che mi servivano a fare un discorso generale ricordate il paganesimo rita, il paganesimo fenicio, il paganesimo finnico il paganesimo magiaro, il paganesimo basco in cui serviva per renderci conto come in tutte le epoche in tutte le civiltà il mondo che ci circondava era un essere divino cioè era percepito come divinità e ancora abbiamo continuato questo percorso ancora con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo cioè come si faceva a scoprire che il mondo che ci circondava era divino si poteva fondendo il crogiolo nostro quello che noi lavoravamo con i crogioli di tutte le entità che ci circondavano contemporaneamente abbiamo messo a punto anche gli elementi del crogiolo del male cioè gli elementi attraverso i quali viene imposto il monoteismo viene imposto il monoteismo ai bambini perché questo? perché il condizionamento educazionale con cui uno viene costretto a pensarsi creato di immagini di un dio pazzo può essere fatto soltanto nei confronti dei bambini non può essere fatto nei confronti dell'adulto mentre invece il percorso di libertà siccome è un percorso in cui un essere umano si prende in mano la responsabilità delle sue cose può essere fatto soltanto da un adulto cosa continuerà tutto questo? alla fine di questo noi vedremo come tutti gli elementi del crogiolo dello stregone sono degli elementi divini sono un farsi divino della singola persona ma questo continueremo nella quarta parte del crogiolo dello stregone questo è l'intento del crogiolo dello stregone e ci porteremo dopo a definire tutte le immagini della duote o tutto il divino che ci circondano con una gran parte delle divinità di tutti i paganesimi greco, romano, egiziano quello che ci è rimasto chiaramente e vedremo come tutte quelle immagini non siano altro che elaborazioni dei vari crogioli degli stregoni che i singoli popoli hanno elaborato prima che le regioni monoteiste li distruggesse questo è il percorso del crogiolo dello stregone il senso del crogiolo dello stregone cosa dici Francesco? sei stato abbastanza chiaro come progetto generale? per cui è chiaro che oggi per esempio parleremo della contemplazione nel crogiolo del male prima di cominciare la trasmissione facciamo due premesse innanzitutto ci hanno visto a Tele Alto Veneto su Visti alla Radio in dieci minuti ho cercato di dare un'idea delle cose in dieci minuti non è possibile dare un'idea di niente però ce ne siamo provati e vabbè speriamo che qualcuno ci abbia visti vero Francesco? almeno abbiamo fatto che questo chi non conosceva Claudio di persona l'ha potuto vedere almeno la radio di persona così quelli che si spaventavano come si vestirà Claudio come la palandrana porterà quali chissà avrà il cappello dal mago la bacchetta magica se non accorde che è una persona normale speriamo perché non mi ha detto allora intanto cominciamo con gli indirizzi io sono Claudio Simeoni Piazzale Parmesan 8 Marghera su elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni Via delle Vignole 4 ho appena cambiato casa ma il numero di telefono è uguale vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti che è Casella Postale 53 Marostica Vicenza ripeto Casella Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti Casella Postale 53 Marostica Vicenza e il numero di telefono della segreteria telefonica dell'Istituto è 0338 39 10727 ripeto ancora 0338 39 10727 cominciamo ecco io vorrei aggiungere una cosa di importante per i nostri ascoltatori vorrei ricordare che dai primi di luglio ci sarà una libreria a televisio che si chiama la libreria sottomondo che aprirà i battenti e sarà aperta al pubblico in cui potete trovare sia le pubblicazioni dell'Istituto sia le opere di Claudio Simeoni di conseguenza appena ci sarà l'apertura ufficiale della libreria troverete non soltanto il libro di Claudio ma anche altre cose strane che sicuramente nelle librerie normali non troverete e difatti volutamente la libreria si chiama Sottomondo è fatta da alcuni nostri amici beh alcuno è conosciuto come Davis che ha partecipato a qualche trasmissione assieme a Claudio sarà lui il commesso fatto ottimo della libreria però tutte le cose che non trovate facilmente tutte le cose più strane le cose più interessanti le cose che sono sotto il mondo potete trovare sicuramente nella libreria Sottomondo di Treviso appena ci avremo l'indirizzo e l'inaugurazione sarà ufficiale e ve lo comunicheremo se anche le fanzine meno conosciute cioè tutto quello che vi può interessare che magari non trovate in nessuna parte perché è fatto da singola persona che ha nicattì che vorrebbe farlo conoscere le sue cose vi ricordo sempre che il paganesimo non è un'organizzazione non è una setta non è un gruppo non è una chiesa che codifica le persone e il paganesimo si caratterizza proprio per il fatto che alcune persone percepiscono il mondo e vogliono comunicare questa percezione del mondo che hanno e vogliono ampliarla per cui normalmente voi trovate piccoli gruppi che fanno delle fanzine fanno degli opuscoli no vero Francesco? esatto e li mandano in giro a chi conoscono e chi conosce manda in giro le proprie per cui si formano questa rete di piccole pubblicazioni anche semplicemente ciclostilate fotocopiate che girano e le idee girano in questo modo dopo di che c'è un po' di pagani che invece si è nascosto sotto internet si è un po' imboscatolata si comunque ecco io sono sempre dell'avviso che la cosa fondamentale del paganesimo sia l'aspetto fisico cioè nel senso spazi materiali su cui poter agire e intervenire internet per me è solo uno strumento in cui le cose si possono diffondere e conoscere di conseguenza avere uno spazio fisico su cui uno può trovare le cose strane che non sono solo le cose pagane o del politeismo o così via ma anche cose curiose dal punto di vista culturale anche la cultura underground arriva a certe formazioni interessanti beh qualcuno di voi conoscerà l'autore americano Hacking Bay che lui ha fatto tempo che parlava delle tazze le zone temporaneamente autonome cioè libera da ogni spazio libera da ogni dominio di conseguenza su cui uno poteva esercitare senza nessun condizionamento la sua libertà Hacking Bay ha affermato appunto che per lui il paganesimo non deve essere una cosa codificata di conseguenza le sue zone sono zone libere per tutti e però lui ribadisce che queste cose devono essere zone fisiche perciò già una libera crea uno spazio fisico su cui uno si può manifestare o può anche può portare sia informazioni sia nozioni sia prendere informazioni o li può anche servire come strumento per cui se la DIGOS è in ascolto sa dove può avere tutte le notizie che vuole senza nessun problema esatto basta che paghi perché le librerie purtroppo devono vendere libri devono vendere libri e devono soprattutto la normativa fiscale è apprezzata pignola esatto bene detto questo un altro annuncio invece è abbastanza importante ho parlato ancora con Franco la conferma è definitiva spero che non ci siano contrattempi se ci saranno contrattempi poi ne parlerò anch'io noi teniamo un piccolo dibattito qui a Radio Gamma una piccola conferenza dibattito come abbiamo tenuto a fine aprile insieme a Franco ne teneremo un altro a fine giugno se poi ci sono dei problemi magari mi verranno detti allora magari sposteremo allora è una conferenza dibattito dove dal titolo trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stragoneria per cui una conferenza dibattito sui concetti di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stragoneria tutti naturalmente sono invitati la conferenza è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista della stragoneria verrà tenuta qui in sala della radio venerdì 26 giugno ripeto venerdì 26 giugno alle ore 20 e 30 cioè venerdì 26 giugno alle ore 20 e 30 se non ci saranno contrattempi perché può darsi che magari la sala serve per altre cose della cooperativa e allora va bene insomma comunque in linea di massima Franco mi ha detto che non c'è nessunissimo problema per cui la conferenza dibattito a Cadoneghe e Padova venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20 e 30 sala radio gamma 5 in via Belzoni 9 a Cadoneghe è una via Belzoni sarebbe una laterale sinistra della strada del Santo che la Castelfranco porta a Padova subito dopo la pizzeria Antico Guerriero chiaramente in zona a Cadoneghe relatore sarò io insieme a Francesco e niente allora vi ricordo ancora venerdì 26 giugno alle ore 20 e 30 in radio gamma una conferenza dibattito su trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria il meccanismo della conferenza sarà sempre il solito io esporrò scientificamente al giro di 10 minuti un quarto d'ora i principi generali su come noi intendiamo la trascendenza e l'immanenza sia in stregoneria che nel paganesimo politeista altri concetti li esporrà Francesco dopodiché daremo via al dibattito per cui potete anche preparare i vostri concetti di trascendenza e immanenza e confrontarli con i nostri e vedere dove le cose non vanno bene abbiamo già provato a farlo qui in radio con Franco le cose hanno avuto un buon esito e un esito non buono ci sono stati anche dei fraintendimenti purtroppo anche sull'uso dei termini proprio anche sull'uso di porre i termini e il loro significato bene noi vorremmo chiarire con tutti quelli che vengono in una conferenza espositiva per cui daremo via anche al dibattito chiaramente il dibattito per noi è sempre una sfida per cui chiunque viene ci fa piacere sempre questo vale anche per i prete chiaramente è una sfida nel senso che non è un gioco per noi i concetti sono sempre sfide vitali in filosofia ricordiamoci che il pensiero non è semplicemente un modo per passare il tempo ma è un gioco di vita e di morte per quanto riguarda vi ricordo niente per i sognatori per quelli che ci troviamo noi una volta al mese comunque telefonerò vediamo se fare se fare sabato 13 o sabato 19 trovarsi in pizzeria la nuova pizzeria che è stata indicata da Giorgio niente comunque ci teniamo in contatto telefonicamente non c'è nessun problema da questo punto di vista bene detto questo Francesco cominciamo la trasmissione perché se no si beh era un attimino adesso Claudio partirà con la sua presentazione del crogiolo del male poi daremo il via le telefonate chi vuole intervenire può intervenire telefonando 049 700 700 grazie Francesco niente allora l'argomento di oggi è la contemplazione nel crogiolo del male la contemplazione si distingue dalla meditazione ricordate meditazione nel crogiolo del male abbiamo fatto la volta scorsa in quanto l'oggetto su cui si articola l'attenzione è esterno al soggetto e questo nel contemplarlo blocca il dialogo interno come viene bloccata viene bloccata la contemplazione attraverso il crogiolo del male attraverso due elementi combinati primo convincendo il bambino di essere al centro del mondo egli è all'interno di una struttura gerarchica e anche se è sottoposto al padre e alla madre che a loro volta sono sottoposti ad altri loro simili è comunque superiore a qualunque oggetto che lo circonda e padrone di esso nulla può venire dagli oggetti che lo circondano secondo legando l'azione del bambino al pensiero e la sua capacità di funzionare in funzione di questo solo quanto può essere descritto esiste e solo quanto esiste è in grado di interagire col suo pensiero dal momento che nessuno degli oggetti o se vogliamo delle coscienze che circondano il bambino al di fuori di altri esseri umani sono in grado di articolare descrizione nessuno di questi oggetti deve interagire col bambino stesso se per qualche motivo il bambino riesce ad interagire intervengono immediatamente degli elementi atti a dissuaderlo il bambino che vede cose strane perché mangia bacche di convolvolo viene immediatamente esorcizzato oppure si fa intervenire lo psichiatra gli esseri umani adulti in pochi casi praticano la contemplazione questa è una delle tecniche che vengono ignorate anche dalle discipline delle religioni orientali questa tecnica presuppone che l'oggetto che si contempla abbia una propria coscienza e una propria consapevolezza e sia in grado di interagire col nostro essere in tutte le discipline religiose questo non è possibile in quanto tutti gli esseri umani vengono descritti come elemento centrale della disciplina stessa è vero che anche in stregoneria nel paganesimo politeista noi parliamo essenzialmente di esseri umani in quanto parliamo di noi stessi e del nostro cammino ma è altrettanto vero che non parliamo di esseri umani come elementi centrali dell'universo ma come esseri umani parte del divenuto di quanto ci circonda il divenuto di cui noi siamo circondati è visto della stessa consapevolezza e della stessa coscienza di sé dell'essere umano e come tale la pratica della contemplazione ci permette di far affluire in modo cosciente e funzionale i fenomeni che dal circostante possono interagire arricchendolo il nostro fare la magia nera del crogiò del male ignora semplicemente la possibilità di articolare questa pratica ma la pratica è conosciuta da ogni essere umano che pratica la ricerca della conoscenza e della consapevolezza come l'oggetto che ci sta davanti è in grado di interagire nel nostro fare innanzitutto noi abbiamo un fare dunque esercitiamo delle determinazioni e pratichiamo un intento la presenza di questi elementi ci permette di praticare la contemplazione l'esercizio dei sensi attraverso la sospensione del giudizio nel crogiò del male il fare è finalizzato ad elementi della descrizione non esiste uno sconosciuto da affrontare in quanto tutto quello che noi facciamo o siamo è all'interno della descrizione fuori dalla descrizione non esiste nulla non esistono coscienze non esistono consapevolezze non esistono fenomeni tutto appartiene alla descrizione cosa ci racconta l'albero che contempliamo o il sole del mattino cosa ci racconta la luna per la nostra ragione nulla sono masse di terre di atomi che nulla ci dicono se non che mentre il sole ci dà la luce la luna rischiara le tenebre e l'albero lo possiamo bruciare ma la sospensione del dialogo interno attraverso la concentrazione della nostra attenzione ci permettono di dire che noi possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di quell'essere albero possiamo vedere e ascoltare il mondo con gli occhi dell'essere sole possiamo vedere e ascoltare il mondo con gli occhi dell'essere luna possiamo sentire lo scorrere dei mutamenti e afferrare quanto ci serve per costruire la nostra esistenza anche se la ragione non lo descrive in altre parole la contemplazione ci permette di andare oltre il pensato e di aprirci ai messaggi che dal divino che ci circonda giunge al nostro divino come si pratica la contemplazione sospendendo il dialogo interno e concentrando i sensi sull'oggetto da contemplare ascoltare il vibrare dei sensi mentre li estendiamo si sentono proprio uscire dal corpo nei confronti dell'oggetto che vogliamo considerare questo fare chiama l'attenzione l'oggetto della nostra contemplazione e stimola i suoi sensi a mettersi in contatto con i nostri sensi solo che i fenomeni non giungono alla descrizione ma i sensi interni anche se poi il tutto viene tradotto con la descrizione del sentire che ne dà la ragione la coscienza divina che noi chiamiamo comunica col divino che cresce dentro di noi poi i sensi del divino che si sono fusi con i sensi della ragione traducono per quanto possono i messaggi la ragione si amplia e i sensi interni si sono articolati per meglio afferrare quei fenomeni si è articolata anche la relazione fra sensi interni e i sensi della ragione che migliorando portano a crescere l'individuo attraverso un arricchimento dei fenomeni cui riferirsi il crogiolo del male non impedisce la contemplazione ma impedisce questo fare a monte convince l'individuo di essere creato di immagini e somiglianze di un dio pazzo e che tramite questo non esiste nel circostante nessun elemento attraverso il quale gli possa elaborare se stesso se non partendo dalla ragione stessa solo la descrizione è padrona dell'individuo e questo deve piegare il proprio agire alla ragione e per conseguenza ai fantasmi che questa propone la contemplazione è un elemento proprio della stragoneria pagana quel fare che chiama il circostante a relazionarsi con gli esseri umani in quanto questi riconoscono a quel fare un essere uguale a se stessi in ogni altra forma religiosa non esiste la contemplazione se non come atto di guardare intensamente con riverenza a qualcosa o qualcuno in stragoneria la contemplazione è l'atto col quale si proiettano i propri sensi nei confronti di una qualche coscienza di sé che riconosciamo come uguali a noi stessi nel mondo della ragione ma che riconosciamo essere un divino che come noi sta crescendo da quel divino prendiamo la forza che ci serve a quel divino offriamo il nostro fare attraverso il quale costruire il proprio divenire il crogiolo del male non si misura con la contemplazione gli è sufficiente continuare a costruire un individuo uguale a Dio il suo creatore e attraverso questa costruzione distrugge ogni relazione che l'essere umano è in grado di costruire con il mondo che lo circonda eppure l'oggetto che ci circonda ci parla comunica a se stesso le proprie potenzialità solo se noi siamo in grado di contemplarlo facendogli fluire su di esso il nostro fare e il nostro intento le coscienze di sé del circostante possono concentrare la loro contemplazione su di noi e costruendo una relazione mostrarci gli elementi utili per la costruzione del nostro divenire osservare e sentire sono degli atti usuali quando vengono fatti attraverso il pensato della ragione la ragione e il descritto guidano il nostro sguardo e il nostro sentire quando si ripete all'infinito quel sentire attraverso quel descritto non si coglie quanto di nuovo si presenta quante storie racconta racconta il vento quanti odori quante vibrazioni la mia descrizione dice che è solo vento anche quando questo mi mette un brivido lungo la schiena la descrizione dice che non è nulla è solo una sensazione l'essere cervo che mi sta vicino comincia a correre mentre io divento pasto di un cacciatore era solo un vento l'essere cervo era più allenato di me no esercitava la sua contemplazione il suo sentire non era prigioniero della descrizione non era prigioniero dell'idea di essere un piccolo uomo Dio al centro di un universo se non fossi stato un uomo Dio non sarei rimasto predo del cacciatore questo equivale anche nella vita di tutti i giorni anche nel nostro sistema sociale i fenomeni ci arrivano ma noi non ci esercitiamo nella contemplazione non sappiamo osservare se non nei termini imposti dal nostro pensato dalla nostra descrizione quando guardiamo il mondo lo guardiamo con un atteggiamento di sufficienza il sistema sociale ci insegna che non siamo creati di immagini e somiglianze di un Dio assassino e il mondo ci è stato dato per il nostro gioco e divertimento oppure ci insegna ci si insegna che l'essere umano è superiore ad ogni animale cogito ergo fum sia che la ragione imponga se stessa come dominatrice dell'essere umano sia che siano i suoi fantasmi il Dio creatore o l'intelligenza superiore non ci verrà mai in mente spontaneamente di osservare i fenomeni del mondo considerandoli uguali a noi o magari noi compresi parte di quei fenomeni noi ci distacchiamo dal mondo così guardiamo il mondo con pietismo e compatimento dall'altro della nostra superiorità in realtà il mondo ci guarda ed è disperato per noi e per se stesso se noi non impariamo a contemplare le divinità del circostante queste non sono in grado di interagire con noi ed alimentare il nostro cammino se noi non impariamo a contemplare non siamo in grado di aprirci fondendo i nostri bisogni e i nostri intenti con quelli delle coscienze di sé che ci circondano il crogiò del male non è in grado di elaborare una strategia per impedire agli esseri umani la contemplazione però il crogiò del male agisce aprioristicamente imponendo in modo così prepotente la ragione e la sua descrizione da bloccare ogni sforzo dell'essere umano per arrivare alle coscienze di sé che ci circondano la ragione ci trasforma in individui arroganti vili e nascosti nella descrizione incapaci di aprirci al respiro divino del mondo alla fine la contemplazione è bloccata dal guardare con disprezzo gli esseri mentre danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza hanno spezzato le aglie al passero per divertirsi per schernirlo non sa più volare hanno spezzato le gambe al bambino per divertirsi per schernirlo non sa più correre tutto questo i vecchi la chiamano saggezza così al crogiolo del male non tocca confrontarsi con la contemplazione egli la contemplazione l'ha già distrutta prioristicamente quando ha preteso che ci ergesse ad immagine e somiglianza di un pazzo creatore la contemplazione è un modo di essere del paganesimo politeista non appartiene a nessun'altra tradizione appartiene al fare dell'apprendista a stregone mentre riconosce il divino in quanto ci circonda e apre se stesso a questo divino e io qui chiudo con la contemplazione del crogiolo del male e la prossima volta del crogiolo del male tratteremo un aspetto specifico che è la preghiera e qui io Francesco ho finito chi ha capito ha capito e chi non ha capito non ha capito altronde io non creo uomini di magia e somiglianza la libertà nasce da dentro lo fa soltanto il Dio creatore pazzo dei cristiani che poi non esiste neanche noi pensiamo che il Dio creatore dei cristiani possa creare qualcosa quando siamo solo noi che creiamo questo Dio che è solo un fantoccio che va solo sgonfiato buttato via ed è solo nocivo anche perché certe volte qualcuno sostiene che quello che noi affermiamo sia una follia sia una pazzia però questo che noi diciamo è comprovato anche dalla fisica cioè ad esempio nella fisica quantistica si dice chiaramente che noi noi non stiamo a scoprire la realtà ma col nostro guardare partecipiamo alla creazione e alla formazione della realtà di conseguenza se noi ci poniamo a vedere la realtà dove ci sia un Dio cristiano che sia creatore che forma il mondo noi troveremo questo ma è solo perché noi abbiamo creato male la nostra forza la nostra energia è indirizzata in un senso negativo che è stata proprio buttata via cioè tempo perso d'altronde quel Dio non esisterà perché è soltanto la nostra creazione e logicamente serve soltanto per dominare noi stessi sia per distruggere sia per distruggere gli altri allora siccome noi dobbiamo lavorare fondamentalmente per noi stessi usciamo questa energia per modificare la realtà perché come sosteniamo le cose non sono fisse non sono tangibili non sono neanche come sono state codificate dai cristiani le cose sono sempre modificabili da tutti non serve che venga un profeta un messia un salvatore per modificare le cose cioè ognuno può contribuire a modificare la sua esistenza non si deve porre il problema di essere un missionario o un salvatore degli altri gli altri se non si salvano è un problema loro noi non parliamo di salvezza perché non si può salvare si può solo compiere la propria vita cioè nel senso che come avvenono gli antichi dicevano il fatto il fatto non era una vita meccanica predeterminata che si ripeteva e andava avanti era il discorso che la vita andava vissuta e andava vissuta in tutte quante le sue conseguenze tutte le sue possibilità perciò c'era una responsabilità nella persona perciò c'era il fatto cioè c'era la necessità il bisogno di vivere e logicamente queste cose subentravano anche con gli aspetti esterni della vita cioè quando noi compiamo qualcosa dobbiamo sempre intervenire e pensare a noi stessi non dobbiamo porci delle limitazioni cioè io non parlo delle limitazioni sociali o di comunità io parlo delle limitazioni sulla ricerca cioè non possiamo pensare che la nostra ricerca che la nostra realizzazione sia determinante è bloccata dalle condizionamenti degli altri noi non potremmo mai dire dovete adorare un Dio anche se è un Dio che a noi ci piace ma questo Dio lo adoriamo perché ci piace a noi non certo perché lo dovremmo imporre cioè nessuno verrà a dire devi adorare Giove devi adorare Atena devi adorare Pao e Diana è una scelta nostra è una sensibilità nostra è una suggestione nostra che va a determinare queste cose ma noi non saremo mai lì a proporre di dire no tu per essere pagano devi adorare questo devi credere in questo il paganesimo non è fissato sulla credenza di qualcosa o su un canone di qualcosa è fissato sulla ricerca delle persone come dicevo all'inizio noi ci poniamo a vedere la realtà in una certa maniera e in base a come noi ci poniamo andiamo a determinare questa realtà di conseguenza bisogna anche liberarsi da questi condizionamenti bisogna anche dire ma perché devo prima di intervenire di vedere qualcosa avere un pregiudizio devo anche andare ad affrontarlo prendiamo un esempio anche di attualità noi abbiamo esempio che ultimamente gli ebrei ortodossi hanno scomunicato il computer dicendo che è un veicolo di pornografia il computer è un agenzio stupido che fa quello che dice l'uomo se io lo voglio utilizzare per una certa cosa verrà utilizzato non è che lui sia insito il male o sia insito la negazione o sia insito qualcosa che a me non piace è come uso questo strumento ma è tipico dei monoteisti che siano ebrei che siano musulmani che siano cristiani avere il pregiudizio e dire che il male è insito nelle cose loro sono il male e possono porre il male in qualsiasi cosa di conseguenza cosa fa un cristiano cosa fa un ebreo cosa fa un musulmano quando vede un qualcosa va a vedere se può rientrare nei canoni della sua fede di quello che gli hanno insegnato delle cavolate che gli hanno scritto nella Bibbia nel Talmud nel Corano a noi non ci piacciono queste scritture questi testi però possono essere letti perché non diventano fondamentali di conseguenza cosa fanno loro loro vedono una cosa e subito non si pongono sulla possibilità di usare questo strumento un pagano non rinuncerà mai a un qualcosa utilizzare sempre qualsiasi cosa che gli venga proposta cercare di utilizzarla al meglio potrà anche commettere degli errori tutti li commettiamo questi errori però quello che lui farà sarà di cercare di utilizzare per la vita e per gli altri questo strumento perciò nessun strumento in se stesso negativo invece gli ebrei dicono va scomunicato va tirato via non va utilizzato perché può provocare questo stabilendo cosa che c'è sempre un elemento esterno che viene a interferire nell'uomo ma come mettono allora la distruzione di massa delle bombe atomiche che ha Israele e Costa Rau le bombe atomiche le hanno costruite con questo strumento si ma capito fa comodo perché logicamente le bombe atomiche le possono costruire e detenere in pochi è il classico sistema cioè quando tu tutti possono avere il computer è una cosa che possono utilizzare come vogliono la bomba atomica certo non te la puoi vedere nei casi di casa sono pochi che hanno il controllo su quelle bombe atomiche sono pochi che hanno i mezzi cioè questo sarebbe un lavoro più ampio di dire perché ad esempio c'è sempre un rifiuto di tutte quelle tecnologie che portano alla libertà di più persone o all'uso di più persone ma c'è perché queste tecnologie possono essere utilizzate in base alla capacità della persona la tecnologia nucleare è accentrata esistono in pochi servono dei mezzi che il singolo non ha di conseguenza è permesso perché potrebbe essere anche Dio che ispira quei pochi eletti sai che c'è un precedente nella storia le 190 stamperie che a fine del 1500 c'erano qua a Venezia sì nel giro di pochissimi anni buttarono fuori 8-10 mila volumi che non erano mai stati scritti mai stati divulgati nella storia da così tanto tempo per cui chiaramente sì ma di fatti il problema proprio anche esempio di questi strumenti è proprio perché il problema dei monoteisti è questo qua finché le cose le possono utilizzare loro bene quando non le possono più essere dominate o controllate e uno può scoprire che utilizzando uno strumento gli dà lo spunto per potersi liberare per potersi essere libero questo qua diventa pericoloso insomma cioè nel senso ma anche proprio perché loro fanno sempre un riferimento unico cioè nel senso loro cercano sempre di dimostrare che l'unico fondamento sono sempre i loro testi che tutto va utilizzato per le loro fine la bomba atomica può servire per distruggere gli altri di conseguenza se gli altri sono infedeli quando qualcuno già sta alla rete e dice ti faccio pescatore di pesci nessuno pensa di essere il pesce pescato anzi qualcuno dice io ti do una mano a pescare meglio bisogna seguirlo bisogna fare quello che dice lui esatto io vado nella Grecia a fare la pecora questo è ammissibile perché c'è sempre la possibilità di utilizzarla come strumento di dominio quando una cosa non può essere utilizzata come strumento di dominio per loro può diventare pericolosa perché quando il classico problema dei monotisti è questo finché c'è un unico Dio o c'è un gruppo ristretto questo va bene quando tutti possono disporre di questa cosa la cosa diventa problematica perché le persone si possono accorgere che non hanno più bisogno di questo Dio per fare le cose facciamo un appello Francesco ricordate che fra poco c'è 740 ecco su 740 volevi dire qualcosa a te sì no io volevo dire firmate per lo Stato per quanto possa far schifo alcuni non gli piace lo Stato ricordate che la firma per lo Stato vale doppio vale sia perché avete firmato per lo Stato vale sia per togliere una piccola percentuale di soldi alla Chiesa Cattolica non costruite orrore non armate le mani di chi ammazza di chi tortura ieri si è dimesso il vescovo un vescovo della Florida lui aveva stuprato 5 ragazzini gli ha distrutto la vita 5 però lui dopo ha tentato di comportarsi bene però lui si è mosso esattamente come proprietà del greggio il greggio era su non poteva fare quello che voglia gli esseri umani sono proprietà sono bestiame e ricordatevi voi che ascoltate questa radio voi non sarete mai abbastanza forti a mettere in ginocchio delle persone per il vostro servizio sarete sempre chi avrà l'illusione di mettere in ginocchio qualcuno di essere forte di essere bravo ma sarete voi il bestiame che qualcuno metterà in ginocchio guardatevi le mani e cercate di non ingannarvi la vita è una sola c'è una sola possibilità si ecco si beh ecco sul discorso dell'8 per 1000 si possono fare alcune considerazioni che sono interessanti Radio Gamma si Radio Gamma buongiorno siete voi che state mandando in onda la conferenza sull'abuso no no allora ho pagato prego Salve buongiorno io ricordo il numero telefono di Radio Gamma 5 che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta ecco io volevo aggiungere qualcosa sul discorso dell'8 per 1000 l'8 per 1000 appunto ricordo che i versamenti sono il 15 di giugno e la presentazione della dichiarazione è il 30 di giugno ecco allora la CEI fa una bella campagna per l'8 per 1000 dicendo che appunto i loro soldi servono per la carità benissimo beh io ricordo che per l'8 per 1000 la CEI paga i divorzi della Sacra Rota dicono con gli interessi dell'8 per 1000 sono pagati la televisione satellitare dei Vescovi però lei sul giornale di Vicenza del 23 maggio fa i Vescovi al verde tagli anche nel 98 a carità emissioni vabbè finché tagliano le emissioni anche sono contento cioè nel senso che fanno meno danni dice problemi di liquidità per la CEI che ha dovuto tagliare nel 98 per il secondo anno consecutivo su molte voci di interessi caritatevoli emissionari cioè finché si tagliano le emissioni sono contento sui spazi sottidimensionari sarebbe bene però questo dimostra chiaramente che a loro è solo una pubblicità per incassare soldi poi i soldi per la televisione li trovano i soldi per pagare i divorzi degli altri li trovano i soldi li ho adotto per 1000 di carta dalla CEI dicendo noi se non divorzate con lo Stato venite a divorziare tramite la Sacra Rota il divorzio ve lo paghiamo noi dove troviamo i soldi con l'otto per 1000 noi tagliamo la carità però con l'interesse dell'otto per 1000 ci facciamo la televisione satellitare e questo qua è già una dimostrazione di come si comportano ma poi c'è il discorso che si contribuisce a mantenere tutta una serie di gerarchie di persone che diventano nocive e io leggo della Repubblica del 28 maggio fa incontra l'esortista e poi si suicida ma io chiedo questo esorcista chi lo pagava da chi era mantenuto chi gli dava i soldi che ha dichiarato che Gesù ha avuto una vita da esorcista lui combatteva Satana peccato che Satana significa l'avversario un termine talmente generico che non ha nessuna consistenza sì attenzione stanno giocando molto sporco attenti che siete tutti insatanati voi ecco la notizia diceva cercava aiuto dal parete era caduto da due anni in depressione poi peraltro allontanata dal porto di essere indemoniata tra il prete dopo l'incontro con il prete si è suicidato ecco io non posso verificare la storia però questa è la Repubblica che la riporta così con questo titolo però io voglio chiedere questi preti esorcisti che non sono capaci di dare un aiuto a una persona che non sono capaci di indirizzarla che pensano che una persona che sia malata che sia indemoniata che ci sia bisogno di esorcizzarla e questa persona che è in situazioni di disagio alla fine ne esce ancora più traumatizzata e alla fine si suicida io dico questi esorcisti che ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque per diocisi e purtroppo le diocisi sono tante chi li mantiene chi li paga che servizio fanno che utilità non hanno nessuna utilità però logicamente questi qua io penso che siano un noccolotto per mille e poi voglio ricordare una cosa che questi qua la pensione mica gliela paga il Vaticano mica gliela paga la CEI la pensione gliela paga l'IMS e la gestione IMS dei preti è sotto di circa 1500 miliardi cioè vuol dire che loro incassano meno di quanto pagano per pagare i preti e quando si fa il discorso che bisogna fare i tagli al suo stato sociale alle pensioni e non facciamo un discorso politico logicamente si fanno i tagli per pagare la pensione ai preti ma c'è c'è una notizia che io adesso non l'ho ritagliata quella notizia però sulle pagine locali del del gazzettino di Venezia in cui sono arrivate delle delle suore non so se dall'India o da qualche extra comunitari e la questura di Venezia si è attivata per portargli direttamente i documenti in convento cioè vorrei sapere per quale altro extra comunitario la questura fa una cosa del genere cioè veramente è abberrante cioè gli extra stanno importando decine e decine di suori dai paesi del terzo mondo per foraggiarsi siamo un po' messi maluccio sì sì ma infatti ma questo lo possono fare anche con l'otto per mille ricordate un'altra cosa quello che sta avvenendo nel Kosovo ha un'altra notizia che devo ancora verificare perché l'ho sentita ieri e la responsabile degli albanesi del Kosovo è andata sia dal Papa che alla comunità di Sant'Egidio vi ricordo che la comunità di Sant'Egidio era quella che spingeva per trattare con chi sgozza bambini e donne indifesi nel caso dell'Algeria nel caso dell'Algeria per cui pensate un po' chi è che sta armeggiando per distruggere il Kosovo ed è una guerra fra ortodossi e cattolici quella quella è una guerra fra ortodossi e cattolici ma d'altronde poi l'astuzia e la furbizia della versione monoteista che noi abbiamo qua in Europa che è il cattolicesimo sono molto furbi perché loro riescono a falsificare qualsiasi cosa tempo addietro si era parlato con un gran clamore che il Vaticano avrebbe aperto gli archivi dell'inquisizione e poi si legge questi giorni fa certo lo studioso sa quello che da tempo è noto che pochi sono ormai fascicoli di processi dopo la distruzione derivata del Monsignore Marino Marini tra il 1806 e il 1817 è di conseguenza che l'unica roba seria che è rimasta sono i verbali della congregazione della fede ma questi verbali non hanno a che fare con il processo di stragoneria dell'inquisizione ma con gli eretici del cristianesimo di fatti perché hanno mantenuto gli archivi della congregazione della fede e non del santo ufficio dell'inquisizione perché lì erano processate gente che era ancora cristiana cioè nel senso e di fatti uno studioso dice fa i primi curiosi in quello che avveniva davanti al tribunale del santo ufficio vi cercavano testimonianza della natura anticristiana di quel tribunale e della superiorità morale degli imputati testimoni della fede evangelica cioè loro hanno osservato soltanto i processi in cui il processato si richiamava essere cristiano di conseguenza loro in qualsiasi caso si separavano il culo in maniera volgare detta cioè nel senso che dimostravano sì che loro potrebbero sbagliare ma il Dio non sbagliava perché quello che univa processato e condannato era anche lui cristiano e lo faceva per difendere Dio perché amava Dio di conseguenza questo è leggermente molto sottile molto astuto cioè nel senso di dire io le streghe che non erano cristiane faccio sparire i processi così non rimarrà traccia della cosa di chi combatteva contro il cristianesimo faccio sparire mi mantengo soltanto togliati di quei processi in cui l'imputato era anche lui cristiano credeva in un Dio buono in un Dio salvatore in un Dio dei cristiani e di conseguenza dimostrerò che c'è soltanto la possibilità all'interno di questa realtà all'interno del cristianesimo questa è una questa appunto è una possibilità che loro creano cioè nel senso vanno a falsificare la storia vanno a demolire e questo rendetevi conto che hanno distrutto tutti quanti questi processi li hanno distrutti nel 1816 il che vuol dire che c'era una percezione c'era una c'era una percezione ben chiara di quello che poter rappresentare un pericolo e poi cosa succede cioè succede appunto che loro fanno di tutto appunto per dimostrare questa validità qualsiasi cosa è buona pur di dimostrare la santità e la validità dei loro testi ad esempio per dimostrare quanto lavorano in maniera meticolosa nel dire che i loro testi sono santi sono sacri sono intoccabili qualche tempo fa ci fu una grande compagnia una grande campagna pubblicitaria a favore di sostenere che ad esempio nella Bibbia c'erano dei messaggi occulti che c'era quale è volontà di Dio bene poi in un piccolo traffitto dice del 3 giugno dice fa un codice si è fatto nella Bibbia c'è anche i Moby Dick praticamente applicando la stessa cosa che è stata applicata per la Bibbia e che venivano fuori chissà quali profezie applicandola a qualche stessa altro testo abbastanza lungo venivano fuori delle profezie Francesco quando è venuta fuori questa scazzata che hai detto guarda a Bibbia addirittura c'è scritto Clinton Presidente la profecia di Clinton Presidente mia figlia si è presa il testo l'ha analizzato un attimo e ha fatto no non è vero c'è scritto Celentano Presidente cioè ricordate l'ebraico non ha le vocali ha solo consonanti per cui l'intercalare delle vocali viene fatto per scelta del lettore cioè è il lettore che sceglie come intercalare le vocali per cui si può fare tutto quello che si vuole il gioco della Kabbala è dato da questo cioè è dato da forma linguistica da forma letteraria per cui è una cazzata si no praticamente poi si è scolpato questo segreto praticamente loro avevano creato una funzione cioè lui prendeva una lettera ogni 49 e se veniva fuori qualcosa era un messaggio valevole e poi veniva interpretato se non veniva fuori niente veniva scartato però logicamente questo si può fare con qualsiasi testo che sia abbastanza lungo in cui le ripetizioni le possibilità ci esistono perciò vengono fuori delle profezie basta pensare appunto sulle Moby Dick e hanno trovato che c'era il signo di Rabin di Trotsky e di Martin Luther King nella Moby Dick a questo punto questo però dimostra anche quanto le persone facciano per cercare di dimostrare la validità della Bibbia cioè nel senso che arrivano a falsificare a creare delle funzioni matematiche delle ipotesi delle teorie in maniera tale a dimostrare che la Bibbia è sempre qualcosa di divino ma questa qua è la Bibbia come Talmud come tutti quanti si sa che sono sempre delle falsità cioè quando ci passa con quello di scritto di codificato significa sempre che si vuole bloccare la situazione a un certo punto che non può essere più modificata non può essere più alterata ricordiamo che proprio la caratteristica dei monoteismi è quello di avere un testo sacro che è inviolabile e cui tutto deve rientrare nel paganesimo non hanno mai tentato di fare una cosa del genere di porre nelle cose un testo sacro che fosse a modello di tutto perché sapevano che le cose andavano modificate che c'erano delle cose nuove di conseguenza loro potevano raggruppare le cose che conoscevano ma non potevano raggruppare le cose che sarebbero venute le cose che sarebbero formate o le cose che la gente avrebbe modificato e creato cioè loro potevano raffigurare le loro città ma potevano raffigurare le città del 2000 di conseguenza la loro città non diventava stabile è come la profezia che fa Gesù di Nazareth nei Vangeli ufficiali in cui dice questo tempio sarà distrutto vabbè te sfido qui i Vangeli sono scritti oltre il 100 cioè dopo la distruzione del tempio per cui è ovvio che hanno giocato su questo fai risalire le cose prima e fai tutte le porcherie che vuoi ricordatevi sempre che l'essere umano ha dieci dita e ha un certo modo di ragionare una certa struttura filologica una certa struttura logica che c'è da qualche migliaia di anni per cui tutto quello che nasce da questo tipo la magia della parola la magia del numero quando non sono usati a livello scientifico non è nulla di magico semplicemente rappresenta una proiezione dell'individuo sul mondo che ci circonda ma è sempre una proiezione soggettiva e su questa proiezione soggettiva le religioni monoteistiche costruiscono i loro testi sacri la proiezione soggettiva è anche quella del Dio Padrone perché voi non troverete mai una religione monoteistica dove i seguaci che si identificano con il Dio Padrone non siano a loro volta figli del Dio Padrone o diletti del Dio Padrone o creati immagini e somiglianza del Dio Padrone per cui c'è chiaramente anche dal punto di vista psicologico una proiezione soggettiva di quello che è una struttura dell'universo una struttura dottrinale per cui delle persone si fa una struttura dottrinale che gli conviene semplicemente per appropriarsi di altri individui di fatto appunto basta pensare cosa hanno fatto ad esempio tutte quante tutte quante ad esempio i testi delle popolazioni vicine ad esempio agli ebrei sono stati annientati distrutti basta pensare ad esempio al discorso anche dei suoi filistei i filistei sono stati considerati malissimi sono stati sempre ne hanno parlato sempre male proprio perché condividevano pur non essendo ebrei una parte del pantheon divino degli ebrei originali di conseguenza quando si è voluto stabilire un unico Dio quando si è voluto stabilire che c'era soltanto quel Dio che c'era quel popolo elettrico cosa hanno fatto hanno cominciato ad addentrare a distruggere qualsiasi testimonianza dei filistei proprio l'hanno fatto in maniera proprio voluta intenzionale cioè proprio predeterminata proprio perché bisognava cancellare la possibilità che qualcun altro avesse qualcosa di simile che loro fossero gli unici che loro fossero gli unici testimoni che fossero gli unici amati da Dio gli unici legati alla divinità e che nessun altro deternesse questo cioè proprio un discorso di mercato di fatto ad esempio se voi vedrete il discorso dei filistei da nessuna parte e gli unici che ne parlano non ne parlano sempre male ma proprio per questa necessità perché avendo avuto in comune una simile avendo avuto un simile pantheon legato comune agli altri era la dimostrazione che quello che avevano gli ebrei l'avevano anche gli altri di conseguenza loro non erano gli unici detentori gli unici amati da Dio o il popolo di Dio di conseguenza questo permetteva ad esempio loro di dismontare l'ipotesi del monoteismo dicendo no voi avete soltanto esasperato una cosa che noi detenevamo e per noi era secondario o faceva parte del nostro panteo e difatti ad esempio i filistei sono dei prospetti della storia e quando se ne parla se ne parla sempre male e difatti tutto quello che viene fatto proprio nel monoteismo è proprio quello di annientare qualsiasi testimonianza delle altre religioni perché siete mai chiesti che ogni volta che arriva il monoteismo il monoteismo ha bisogno di distruggere gli altri cioè di distruggere le lingue le religioni facciamo un esempio anche di attualità ad esempio nell'Algeria che è squassata da una guerra di tipo religioso c'è il problema ad esempio che esistono delle minoranze linguistiche che sono i berberi o delle minoranze che parlano il francese benissimo è scoperto su uno scandalo in cui c'è un ex ministro dell'informazione che è stato incaricato di arabizzare il paese cioè nel senso di introdurre come l'unica lingua l'arabo adesso io non sto a distinguere ciao Claudio ciao Francesco dimmi tutto mi piace molto la trasmissione di oggi specialmente anche perché a te Francesco penso no?